La terza sora teneva l'umietta che ceva passata la chiatotta San Giuseppe eppure quando se lavava, una volta l'anno, c'ha passata la vasca androsa salisceva la carnici alla mosca e riceveva che buona pizze che venga e mo' muovete la barca ma poi si dice che alla quarta sora teneva un cuore tante, teneva un cannone sparaviglia la quinta sora invece teneva una pazza chiatta e l'ardosa come a che rota una vacca brena a t'esta sora, con i teneva una spessa ma una spessa come a quella della baiata stovelata la famosa spesta la sora come a che rota una vacca brena è una propria brutta sora è una brutta bucata cattiva ma se credeva che s'aperta uscì luna colalda se facevano un sacco di compliment cattiva cuore ma se credeva che s'aperta al sono in questo modo il nostro lavoro che si credeva che s'aperta ci credeva che s'aperta ci credeva che s'aperta le scoperta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.